30 minuti dopo Senti, vieni anche tu da io a prendere un aperitivo? No, io so qui che me ne faccio una con il cactus fresco! Senti, Piagetto, io a casa c'avrei della sabbia! Tu non è che hai della semenza! Ce l'ho io, ma è vecchia! Semenza senile! Va bene! Mettiamo su un import-export! Interessantissimo! Più precisamente di che cosa si tratta? Carne extra light! Basso contenuto di nicotina! Ottimo! Con il motto fumare fa male anche te! Passamela! Andiamo in arrivo! Aspetta, aspetta che prima vorrei dare un canzone saracinesca di quello la che impara a tenere il bar sempre giusto! Fammi arrivino anch'io! 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11,